Crime Out, Crime Out, siamo la famiglia di Crime Out Benvenuti e benvenuta a Crime Out, case di cronacanera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Erika. Ciao, io sono Silvia. Ciao, io sono Sara. Ciao Sara! Questa è una sorpresa, perché è una new entry. Sì, anche se in realtà ho lurcato per parecchio tempo. Spiega cosa significa lurcare, perché abbiamo una fascia di età molto ampia. Io sono stata un utente che ha partecipato tanto, però dall'altra parte, diciamo dal lato commenti, dal lato di chi guarda, non dal lato di chi parla. Infatti, se chi di voi ha partecipato alle live, si ricorderà che c'era sempre quest utente, che non capivamo se era uomo o donna, o gatto. Perché Sara ha l'icona di un gatto, voi non la vedete, ma noi sì. E sotto il nome di... lo faccio pronunciare a lei. Ok, lo dico lentamente. Fuchs Teufels Wild. Io te lo farei ripetere, perché ti ho sentito la voce che andava e veniva. Ah, ok. Allora, Fuchs Teufels Wild, che è una parola tedesca che significa furioso come una volpe demoniaca. Che mi ha fatto veramente ridere quando ho scoperto che esiste effettivamente come termine. Lo trovo, peraltro, molto calzante per quello che è la mia personalità. Quindi ho detto, va bene, questo sarà il mio nick su YouTube. Però noi non lo sapevamo pronunciare, ovviamente. Lo impareremo, Erika, lo impareremo. Non lo so. Quindi mandare un vocale e noi dobbiamo abbassare il video. Facciamo le prove, sì. Eh, così. E quindi la chiamavamo Fuchs. Sì. Perché era più... era diminutivo. E quindi era sempre presente alle nostre live. Faceva commenti... Facevi commenti intelligenti, arguti. Oh, grazie. E le nostre live prendevano vita, cioè prendono vita anche con le domande e le interazioni con chi ci ascolta. Quindi vi aspettiamo. Questo mercoledì cominciamo già a battere. Perché proprio con Sara, sarà Sara, sarà Sara, che presenterà una presentazione serie professionale a livello video, ma anche a livello di contenuti. Su questa tematica che vi sembrerà pesante, magari da dire così, però a noi interessa molto e anche questa collaborazione, l'idea di questa live è nata così, molto spontaneamente e repentinamente. E la live sarà sui bias cognitivi nel caso di Avetrana. Esatto. Vuoi proprio accennarci? Allora, un bias è un pregiudizio, potremmo dire. Sono meccanismi mentali che tutti noi abbiamo e che ci aiutano in un certo senso a interpretare la realtà senza analizzare sempre ogni singolo dettaglio, perché altrimenti se dovessimo farlo per ogni cosa che ci circonda probabilmente saremmo catatonici. Però a volte questo meccanismo ci crea dei problemi, se non ci accorgiamo del fatto che senza volerlo stiamo cadendo in un pregiudizio. E cosa succede quando non ci accorgiamo di cadere in un pregiudizio, quando in ballo c'è però un processo di grande risonanza come quello di Avetrana e una condanna pesante come quella di un ergastolo? Questo è quello che, esatto, quello che vorremmo provare a indagare per capire come mai tanta gente è convinta di certe cose, quanto siano solide alla fine, quanto siano logici certi ragionamenti e come fare a riconoscere quando anche involontariamente cadiamo in errore. Per far questo prenderemo in esempio parecchi commenti, tanti dei parecchi e dei tantissimi commenti stasera, scusate non so parlare, che ci sono sul web e che ci sono sempre stati, perché Avetrana è uno, forse penso, il caso in cui si contano la maggioranza di colpevolisti, cioè rasenta oltre il 90% credo. E così, statistica di sensazione, però… Un altro bias in effetti. Vedi, vedi, vero. Quello però è quello della mia esperienza, infatti, mi baso solo sulla mia esperienza. Però probabilmente non ci stai andando troppo lontano. Ok, non vi spoileriamo altro, allora questo mercoledì live sul canale YouTube, quindi se ci ascoltate come podcast e non vi siete ancora iscritti al canale YouTube, andate a fare perché così avete la notifica di quando escono queste interessantissime live. Quindi, aggiungo solo che ci sarà un'altra ospite, che è una criminologa, chissà, potrebbe essere quella… no. E poi, sempre su Avetrana, scusate, noi abbiamo questa piccola ossessione e vedo che ci sono tante persone, Sara è una di queste, che sono ossessionate come me, quindi io dico che attraiamo quelli simili a noi. E poi è arrivata Sara, quindi non è un caso. E poi parleremo ancora di Avetrana in altre live abbastanza vicine. Quindi, se vi interessa il caso, ma anche se non vi interessa e volete saperne di più, per l'appunto, state connessi, iscrivetevi al canale YouTube. Ma stasera… Vogliamo diventare il canale che ne parla di più in Italia. Troppo, mi tratta meglio. Sì, vabbè, lo so, Erika, tu hai… qual è il tuo caso ossessione? Di che cosa è che parleresti così tanto? Ma, te l'ho detto, io sono molto sui serial, probabilmente anche oltreoceano, quindi dipende. Però poi, alla fine, mi appassionano tutti. Questo qui, il caso di Avetrana, mi appassiona amaramente, nel senso che ci sto male al pensiero di come sono andate le cose. Quindi, lo reputo, è importante fare questo lavoro. Bene, bene. Quindi, no, perché poi, se no, mi sento in colpa che si parla dopo di Avetrana. E infatti, infatti, perché è così che, approfondendo il caso, che si hanno più dubbi di quando invece se ne sapeva poco. Più si approfondisce, più ti vengono fuori domande. Mentre, sul caso che tratteremo stasera, non ci sono particolari misteri, però c'è una personalità, è una persona molto, molto particolare, che si ricollega un po' al nostro, parecchio, il famoso Firouge, all'ultimo caso trattato, che è stato il fidanzato di Erika. Ed, però è così inquietante. Ogni tanto le escono così, queste cose. Vabbè, ne stai. Sì, sì, è vero, cioè, no, cioè, non che è vero che è il mio fidanzato, ma è vero che ci sono delle... Non potrebbe esserlo, cioè, no. Ci sono, in effetti, delle similitudini, mettiamo così. Quindi partiamo, iniziamo a raccontare la storia di Vincenzo Verzeni. Facciamo il nome, tanto lo vedranno anche nel titolo. E questo è un caso del 1800, quindi dobbiamo andare indietro di un bel po'. E Vincenzo Verzeni nasce l'11 aprile del 1849, in un paesino sulle sponde dell'Adda, in provincia di Bergamo, che si chiama Bottanuco. Lui nasce in una famiglia contadina, suo padre si chiama Giacomo, ed è un alcolista, è ipocondriaco, è malato di pellagra, ed è anche molto violento. Quindi sfoga sul piccolo Vincenzo tutte le sue ire. Lo picchia con frequenza. Strano, strano, non parliamo mai di famiglie disfunzionali, di botte, anche qua. No, infatti, è una storia mai sentita proprio, un inizio assolutamente inaspettato. Eh, questi assassini che casualmente proliferano nelle famiglie un po' violente, sì, lo picchia tanto e per nulla, sempre. Però nonostante questo, il piccolo Vincenzo subisce tutte queste botte molto docilmente, non si ribella mai. E anzi, sviluppa un certo rispetto per la figura paterna. In realtà lui rispetta tutta la famiglia, anche la madre. E la madre, appunto, si chiama Giuseppa. È una donna che viene definita, no, stando alle fonti molto remissiva, molto anaffettiva, bigotta, timorata di Dio e soffriva di epilessia, tra le altre cose. Ah, tra l'altro, volevo già interromperti prima, però mi sono trattenuta. Allora, mi sono andata a cercare anche la pellagra, io nemmeno... Non sappiamo che cos'era, però volevo cercarla più in maniera specifica. Così accenniamo, è una malattia che è dovuta a un'alimentazione basata solo sul consumo di polenta, quindi molto diffusa nell'orditalia all'epoca, ovviamente in famiglia povere, e causava dei problemi di pelle, proprio in alcune parti nello specifico, per su mani, collo, di pelle che si squama, ma vabbè adesso non sto a raccontare in particolare, e che portava anche poi a, diciamo, carenze a livello mentale. Non so che non è la parola giusta da dire, però il cervello, la mancanza di vitamine di qualsiasi tipo, ne risente anche la parte cerebrale. Peraltro, se non vorrei dire una stupidaggine, però credo che quando ci sono danni cerebrali dovuti a malnutrizione, siano anche danni irreversibili. Probabilissimo. E poi mi taccio, Erika, per un po'. No, no. Visto che è la storia che si svolge nell'Ottocento, approfittiamone per salutare Ottocento Scuro, che è una pagina e un podcast, che tratta proprio di crimini avvenuti nell'Ottocento, quindi salutiamo, so che è molto curioso di ascoltare la nostra, la versione, la storia di Vincenzo Verzeni raccontata da noi, quindi te approfitto per salutare. Basta. Lo saluto anch'io, allora. Salutiamo Ottocento, e appunto, nonostante questa fosse una famiglia contadina, in realtà non erano indigenti, non erano dei disgraziati, erano più che altro descritti come estremamente avari. E mi rifaccio al discorso della polenta, che stavo dicendo prima, Silvia, perché infatti poi nelle carte processuali ci sarà chi dirà che mangiassero il mais andato a male, pur di non spendere. Però, al di là di questo, loro per l'epoca avrebbero potuto collocarsi addirittura tra chi godeva, diciamo, di qualche privilegio in più rispetto agli standard, quindi non stavano male, ma erano loro che erano molto avari. Vivevano in questo casolare, un casolare di campagna, però al piano di sopra viveva anche la famiglia degli zii di Vincenzo, con la loro figlia. E gli zii di Vincenzo erano affetti da cretinismo, tornando alle patologie che possono venire, no, dalla malnutrizione, perché il cretinismo fondamentalmente è una condizione, una patologia che si va ad intaccare sia la sfera fisica che quella cognitiva e può essere causata, se non sbaglio, sia dall'ipotiroidismo, sia da mancanza di iodio nell'alimentazione. Quindi, detto questo, Vincenzo Verzeni cresce, sembra un ragazzino abbastanza tranquillo, abbastanza introverso, o anche parla poco, è addirittura sensibile, perché è sofferente e dispiaciuto per gli animali che la famiglia possedeva e che venivano uccisi. Difatti, lui non voleva mai assistere a queste macellazioni, quando avvenivano se ne andava. E anche qua, torniamo a un po' Ed, vero? Quante similitudini che ci sono. Quindi, fino ai 12 anni, lui è pressoché innocuo. Poi, però, nella sua testa, qualche ingranaggio inizia a girare in modo diverso, perché lui realizza che in realtà gli piace togliere la vita. Nello specifico, gli piace strozzare i polli di famiglia. E, questa azione, di tirare il collo, decapitare polli e galline, lo porta al raggiungimento del massimo piacere. e di nuovo, torniamo alla gola, al collo. Ricordate, abbiamo già trattato l'acqua pia dell'acido, anche nel video che era uscito di Alexander Butcher, che stirava la testa alla gallina, anche lui. Eh, sì, sì. Scusa, di vagone. No, no, ma, sì. E lui fa queste strage di animali, praticamente si intrufola nei capanni di loro proprietà e poi dà la colpa agli animali selvatici, dice, sono state le faigne, le volpi, no, per nascondere questi suoi atti. Quindi va avanti in questo modo, nonostante tutto, lavora nei campi tutto il giorno, dall'esterno è reputato un ragazzo rispettabile, frequenta la chiesa, si dà tantissimo da fare. Come dicevamo, non parla molto, però in paese è e rimarrà un totale insospettabile fino alla fine. Però, controversie. Si dice, intanto fosse divenuto, no, nella crescita una sorta di masturbatore compulsivo, anche se io non so se per l'epoca praticamente già soltanto guardarsi fosse ritenuto ma questo chi lo diceva? È scritto, è proprio scritto negli atti processuali che ci sono, no? Lo racconta lui che lo faceva? però, appunto, ripeto, non so se semplicemente toccarsi fosse già di per sé ritenuto un atto, no? Da non compiere. Un po' bigotti, lo confessava come se fosse uno dei grandi peccati quando alla fine magari lo faceva nello stesso modo in cui lo fanno tutti. Esatto. Qual è il problema? Il problema è che lui crescendo non trova chissà quale soddisfazione nell'avere dei rapporti sessuali convenzionali e consensuali con le ragazze. perché lui diciamo si fidanza qualche volta nessuna storia seria perché la sua famiglia gli impediva di sposarsi perché erano molto avari un matrimonio sarebbe costato e tra l'altro gli impediva anche di fare avere rapporti sessuali quindi era un po' tenuto alla lontana da tutto lui poi trovava il modo ha avuto queste ragazze e queste ragazze saranno poi chiamate anche a testimoniare al processo e diranno di non aver mai riscontrato comportamenti che potessero farle preoccupare testimoniano proprio parlavamo di cose di campagna niente di più niente di meno non ha mai avuto nessuna stranezza però intanto c'è questa cosa lui uccide i polli e questo lo fa eccitare quindi lo fa eccitare prendere per il collo una creatura in difesa togliergli la vita con questo atto e solo per il gusto di farlo cioè di ucciderla esatto era quello che gli piaceva lo strozzare e siamo nel 1867 a questo punto Vincenzo ha 18 anni e nel casolare di Verzeni come dicevamo c'è la cugina di 12 anni si chiama Marianna questa ragazzina è a letto perché è convalescente aveva avuto il colera è coperta naturalmente ovviamente ognuno di noi c'è una malattia tutti no sì sì effettivamente drammatica la situazione draccini ma già io sono folenta sto male sto male troppo sì e peggiorava e peggioravano esatto ora sì questa questa ragazzina è sotto le coperte è molto gracile è molto pallida è indifesa sta dormendo e Vincenzo entra nella sua stanza e appena entra nella sua stanza la vede lì nel letto che riposa e la aggredisce le sale sopra prova a morderle il collo e poi tenta di strangolarla e direi che sia importante dire che la forza la vemenza con cui la stringe è quella che si usa per uccidere non lo fa non lo fa per finta non lo fa in funzione di tenerla ferma mentre è in corso magari un abuso sessuale ecco lui non vuole stuprarla quello che lo eccita è l'azione di strangolare e nel mentre lo fa si strofina ma non si spogliano e fortuna vuole che Vincenzo abbia un orgasmo prima di soffocarla definitivamente quindi la lascia e Marianna nonostante la debolezza urla urla fortissimo cosicché a questo punto accorrono la madre e persino una vicina di casa lo vedono Vincenzo che scende le scale ma non gli chiedono nulla tant'è che questa vicina sempre negli atti processuali dirà di aver dato da bere alla bambina una roba tipo cenere e aglio perché pensava avesse i vermi e stesse urlando di dolore per questo non un po' di polenta no aglio e cenere che non so che rimedio foste però sentiremo l'aglio è batterico va bene ma la cenere sì anche quella è per accompagnarlo il carbone tipo come danni i carboni ai cani quando i gatti anche sì sentiremo cioè nel senso dovrò riportare delle cose che magari per noi non hanno molto senso oggi anche comportamenti no che si assumevano all'epoca che eh beh chiaro già non chiedere niente a lui esatto che era il maschio esatto cioè non chiedono perché avevano capito e non volevano sollevare la questione o proprio non avevano capito allora la loro non diranno mai no di averlo capito ma secondo me una ragazzina di 12 anni che ti strilla nel cuore della notte poi vedremo aveva dei tegni importanti sul collo sicuramente non sta urlando per i vermi e se vedi uscire lui esatto e la madre la madre di Vincenzo lo vede uscire e vede la sua camicia macchiata di sperma e non interviene quindi lo sapevano palesemente e anche la la bambina Mariana non dice una parola su ciò che è avvenuto non parla neanche con il dottore il dottore il giorno dopo la visita vede dei palesi segni rossi sul collo e lei non riferisce assolutamente niente di quello che le era successo certo io ce l'aveva in casa sì poi immagino che tutti gli avrebbero dato la colpa esatto non l'avrebbero creduta esatto cioè voglio dire ci si fanno problemi ancora oggi di questo tipo se ci sono delle aggressioni si tende a pensare ma non è che tu hai fatto qualcosa che potesse indurre figurarsi nel 1800 bias bias ovunque ora qui parliamo di un caso estremo perché una bambina di 12 anni malata di colera nel letto di camera sua che certamente però all'epoca si poteva pensare magari era troppo svestita magari la vergogna e la colpa sarebbe ricaduta qualunque esatto cioè qualunque giustificazione si sarebbe adotta per sì far andare le cose come era secondo loro meglio che andassero purtroppo sì purtroppo sì e dopo questo dopo questa aggressione Vincenzo oltretutto si confessa con il parroco e il parroco si limita a dirgli che sia peccato e di non farlo più e stop e è così che la prima aggressione del nostro vampiro della bergamasca fila liscia però preparatevi perché ce ne saranno una sfilza infinita quindi andremo avanti per un po' e sono una dopo l'altra perché poi fondamentalmente la sua storia è costellata di aggressioni e poi purtroppo anche omicidi quindi trigger warning proprio triggeroni sì 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 se siete sensibili a questo argomento non andate oltre sì meglio dirlo prima perché effettivamente qua al di là delle nostre considerazioni cioè il racconto è abbastanza pesante quindi passiamo all'11 dicembre del 1869 abbiamo Barbara Bravi che è un'altra vittima di Vincenzo e lei sta camminando da sola per andare in chiesa è pomeriggio siamo a dicembre quindi è già buio e Vincenzo si avvicina a lei con una scusa le parla ma nel giro di pochissimo la cinge la prende la strattona fuori dalla strada la getta per terra e le si mette sopra inizia a strangolarla però anche questa volta lui raggiunge l'orgasmo abbastanza in fretta quindi Barbara non muore soffocata per fortuna perché poi lui la lascia perché lui una volta che aveva finito questo piacere se ne va quindi lei non è sicura di chi l'abbia aggredita e arrivato appunto al culmine lui se la dà gambe neanche lei denuncerà Vincenzo torna a casa per la vergogna non proferisce parola a nessuno intanto perché non l'aveva visto bene quindi non sapeva effettivamente chi denunciare e poi come dicevamo perché si fa fatica a denunciare oggi figuriamoci nell'ottocento sessanta anche qua anche qua quando Vincenzo torna a casa la madre lo vede con la camicia macchiata e fa finta di niente di nuovo sì sì interessante successivamente questa Barbara Bravi effettivamente testimonierà il processo dicendo che molto probabilmente era lui però ecco all'inizio non fa nulla passa soltanto qualche giorno da questa seconda aggressione e purtroppo è già il turno di un'altra vittima perché c'è Margherita Esposito lei è la moglie di un distillatore di acquavite ed è una donna molto robusta e molto forte a 35 anni e quel giorno si sta dirigendo in chiesa Vincenzo la vede la coglie di sorpresa mentre lei sta pregando da sola la afferra la fa cadere la immobilizza e le spinge un ginocchio sulla pancia per tenerla ferma poi prova a strozzarla però questa volta Margherita è una donna ben piazzata è forte non è gracilina come le altre quindi lotta si ribella e lo prende a un ghiato in faccia quindi riesce a ferirlo e di conseguenza di vincolarsi a scivolare sotto al ginocchio di Vincenzo e si libera da questa morsa lui peraltro nei giorni seguenti verrà avvistato andare in giro con questo volto tumefatto un po' graffiato un po' rosso e poi si collegherà il perché e su Margherita ci sono delle fonti contraddittorie perché da qualche parte ho letto che foste andata a denunciare l'aggressione da altre che non lo avesse fatto però anche qua il sunto non cambia perché Vincenzo la passa di una boliscia e nessuno pone la minima attenzione nei suoi confronti quindi a piede libero esatto che beh sarebbe importante adesso se non c'è la notizia non c'è sulla denuncia però capisco anche che però appunto una cosa è la denuncia una cosa è le famose chiacchiere di paese quindi sì a tutte queste donne lo vedevano andare in giro con i graffi in faccia questa non credo che non lo avesse raccontato anche perché alla fine era viva aveva lottato cioè si stica una cosa del genere e la passidiscia a quel punto la racconti eh ma magari lo aveva raccontato ad altre donne e c'era un'omertà tra di loro nel senso che non andavano a raccontare poi agli uomini o alle forze dell'ordine no? e quindi rimaneva forse il clima di paura eh che alleggiava fra le donne che non potevano esimersi dal fare le loro faccende quotidiane esatto in campagna nell'ottocento d'inverno strade sempre buie cioè sì proprio da farsela in mano sì esatto posso farti una domanda Erika se si sa perché insomma immagino che le fonti comunque siano quelle che siano ma lui era considerato tipo tra virgolette lo scemo del villaggio cioè era considerato uno strano in realtà in realtà no nel senso che di lui si parla come un uomo di poche parole no? però non era neanche considerato ecco sì lo scemo del villaggio per intenderci assolutamente no quindi non era tipo il creepy l'uomo creepy che si aggira no per quello riusciva a prenderle alla sprovvista non se l'aspettavano sì l'idea che mi sono fatta io era un tipo solitario esatto l'idea che mi sono fatta io è quella di uno che lo vedi sempre a vangare a lavorare nei campi come ce n'erano tanti comunque all'epoca e i comportamenti strani che possiamo non so intercettare oggi probabilmente una volta erano molto più comuni e quindi anche di tipi come lui no? probabilmente ce n'erano un po' dall'esterno nessuno sembrava pensare a lui mentre tutto questo stava accadendo quindi cioè ci sono per esempio durante questa storia ci sono altre donne che poi testimoniano ci saranno dei sospettati e questi sospettati per esempio erano dei corteggiatori molto insistenti e quindi ti fai facilmente l'idea che ci fossero tanti uomini che insistevano avevano comportamenti creepy effettivamente era un po' la norma forse sì quindi diciamo gli standard erano già più alti rispetto a quelli di oggi in più lui comunque non era uno strano era solo uno solitario cioè lui era zoppo però era zoppo però appariva eh vabbè ma ok quello non vuol dire nulla e lavorava 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 e se ne stava da solo questo forse anche nobilitava il resto no? se non lavora vuol dire che è una brava persona no? lui poi quando chi ci ricorda il trattore ho stato qualcuno sì no di lui lui non aveva frequentato le scuole era andato tipo quattro anni e poi si era messo a lavorare nei campi era analfabeta ma anche lì come tanti all'epoca non ci ricorda scusate eh ma qui è tutto un po' sì sì qua è tutto un po' rimandare ad altre storie è un mix nelle campagne era così sì sì è ancora così sì però un po' 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 quando non vado a zona eh non generalizzo per zona perché sicuramente però io ci vorrei andare vorrei scapparci in campagna se potessi ma sì sì ho capito campagna al momento un po' più sud però poi perché non abbiamo le cantante campagne e qui sono gestioni industriali al nord delle campagne però è così anche anche proprio l'atmosfera quotidiana che si soprattutto d'inverno sì probabilmente era solo poi appunto famiglia bigottissima non si non si concendevano nessun lusso niente di niente eh padre alcolizzato violento violento cioè già soltanto per dire gli zii che soffrivano di cretinismo poi dopo anche a lui adesso vi faccio lo spoiler verrà diagnosticato tra virgolette questo cretinismo però quando quando parlerà con l'ombroso per esempio lui lo definirà un uomo lucido anche abile nel parlare nel costruire discorsi quindi non era scemo come ci si può immaginare quello che diventa pericoloso no che gli stai lontana perché vedi che ha dei comportamenti improvvisi strani era un tipo solitario che ne combinava di tutti i colori però continuiamo cioè iniziamo anzi continuiamo continuiamo perché di nuovo a distanza di qualche giorno tocca a Angela Previtali Angela è una ragazzina si sta dirigendo a scuola viene anche lei assalita da Vincenzo viene portata in una sorta di capannino lì adiacente allo stradone che stava percorrendo questa ragazzina terrorizzata piange chiede a Vincenzo di lasciarla andare e qua avviene qualcosa che fino ad ora non era mai avvenuto perché infatti dopo qualche momento lui la lascia andare e quindi per fortuna se la cava se la cava molto meglio purtroppo della ragazza di cui sto per parlarvi adesso perché adesso avviene il primo omicidio quindi siamo all'8 dicembre del 1870 e anche qua parliamo di una ragazzina giovanissima perché Giovanna Motta ha soltanto 14 anni questa Giovanna Motta lavora in servizio come domestica presso la cascina di una famiglia la famiglia se non vado errata si chiamava famiglia Ravasio e quella mattina lì essendo l'immacolata si sta recando in visita dalla sua famiglia lei dormiva alloggiava proprio nella cascina dei Ravasio percorre questa strada per Stuisio parte molto presto parte intorno alle 7-8 di mattina e dovrebbe essere arrivata a un certo punto dai suoi parenti però nessuno la vede la famiglia si chiede dove sia al tempo naturalmente non esistevano i telefoni per avvisare in un primo momento non possono far altro che chiedersi se ci abbia ripensato magari si è rimasta dai Ravasio cosa succede nel frattempo nel frattempo quel pomeriggio lì una signora del paese rinviene un fazzolettino per terra in mezzo alla neve che viene ricondotto proprio a Giovanna perché aveva credo le iniziali della ragazzina incise incise non incise ricamate sul fazzolettino e dopodiché sempre un altro contadino trova l'immagine di un santino per terra e anch'esso ricondotto di proprietà di Giovanna Motta la mattina dopo l'8 dicembre un altro contadino trova delle frattaglie trova degli organi all'interno nella cavità di un albero di gelso però questo uomo pensa che siano interiore di animali messi lì da qualche cacciatore per fare tipo da richiamo e non si preoccupa però passano due giorni e a due giorni dalla scomparsa di Giovanna la famiglia Ravasio che per inciso si era affezionata tantissimo a lei Giovanna era considerata da loro come una figlia si preoccupa no? a maggior ragione nel momento in cui riesce a avere un contatto con i parenti di Giovanna che dicono di non averla mai vista arrivare a casa quindi dov'è questa ragazzina? partono di conseguenza le ricerche e il 13 dicembre chiaramente passando i rassegni ai campi e le vie che avrebbe potuto percorrere in una stradina in realtà che era vicinissima alla proprietà dei Ravasio sotto a una tettoia viene purtroppo rinvenuto il cadavere della ragazzina momento grafico perché questo è un omicidio abbastanza brutale quando lei viene ritrovata è nuda ad eccezione di un calzino sulla gamba sinistra mentre invece in quella destra non ha più il polpaccio tra parentesi il polpaccio verrà ritrovato dei giorni dopo nascosto tra delle streppaglie e sul corpo sul corpo martoriato ci sono segni di coltellate ci sono echimose ci sono graffi ci sono segni di morsicature ma c'è un taglio che va dallo sterno fino alla zona pubblica quindi è letteralmente aperta le sono state asportate le interiora che erano state ritrovate in quel tronco di gel purtroppo erano le sue e l'assassino che sappiamo essere Vincenzo Verzeni le ha tagliato via anche gli organi genitali stile Jack lo squartatore anche un po' stile mostro di Firenze io vai e vai qua e oltre a questo altro dato abbastanza triste questa ragazzina della terra in gola che sicuramente è stata messa con la forza affinché non urlaste per soffocarla ulteriormente come se questo scenario non fosse abbastanza agghiacciante vengono trovati dieci spilloni di quelli che si usavano per tenere su i capelli una volta e questi dieci spilloni sono disposti a raggera o comunque geometricamente perché anche qua le fonti cambiano sulla struttura di questi spilloni vicino al corpo della vittima intorno a una roccia sembra una roba quasi rituale ecco questi spilloni oltretutto erano stati usati anche per pungolare il corpo della vittima e non so se lo sapete questa pratica sadica proprio un nome si chiama picherismo si purtroppo esiste è abbastanza singolare secondo me il fatto che sia passato dall'aver lasciato andare una possibile vittima solo perché gliel'ha chiesto a evidentemente portarsi dietro per l'attacco successivo degli strumenti per infliggere del dolore ulteriore come se dovesse compensare il gesto di pietà di prima gli spilloni li aveva trovati sulla testa della ragazzina però effettivamente li usa poi dopo sul corpo e poi immagino d'accordo che nelle campagne magari il coltello si portava in giro abitualmente può anche essere così però c'è proprio un escalation improvvisa anche rispetto a quello che faceva prima che è seguita a un atto in realtà di vogliamo chiamarla misericordia sì in effetti è particolare questa cosa questa non so non si riesce allora non ti riesce a capire non c'è un escalation no più che altro non si riesce a capire se lui avesse soltanto tra virgolette strangolato comunque inserito questa terra nella bocca della ragazzina e portata alla morte così e avesse infierito sul corpo una volta no avvenuto il decesso e quindi non so come una sorta di non so a questo punto l'ho uccisa ho combinato una cosa talmente grossa che mi sfogo completamente faccio tutto quello che io la vedrei un po' così perché poi dopo adesso non voglio fare spoiler ma lui racconterà di aver scoperto di ha tantissime parafilie no che scopre man mano e questa di distrozzare il problema è che le scopre che le scopre facendole esatto questa di distrozzare la sapeva sapeva di averla lo sapeva fin da quando era piccolo infatti strozzava uccideva i polli no all'inizio e quelle che si sono salvati prima eccetto l'ultimo effettivamente prima della dell'omicidio erano state salve soltanto perché lui banalmente aveva raggiunto l'orgasmo prima di ucciderle non so se con la se con la motta lui non aveva non era riuscito a raggiungere l'orgasmo in tempo e quindi l'aveva uccisa e dopo averla uccisa non so ha dato sfogo alle altre probabili parafilie e curiosità che aveva o forse non lo so era arrabbiato per quello che aveva fatto non possiamo saperlo sinceramente neanche lui lo spiega ok ok lui ci racconta semplicemente che ve lo dico dopo ve lo dico dopo non faccio spoiler quando arriviamo alla confessione vi dico cosa ci racconta lui comunque perché scusa faccio una parentesi Sara questo questo caso non lo conosceva giusto esatto esatto io non sapevo niente quindi le domande che fa sono spontanee al 100% saranno anche ingenue forse ma mi vengono no no assolutamente sono venute anche a me durante però non sappiamo di preciso perché sappiamo che gli piaceva fare quello che aveva fatto questo sì ora va bene naturalmente dopo questo omicidio terribile si cerca di capire chi sia stato ma del Verzeni ancora nessuno sospetta e quindi nessuno lo cattura siamo a qualche mese più tardi quindi siamo ad aprire il del 71 e c'è un'altra ragazza Maria Galli che sempre cammina da sola e viene aggredita di nuovo da Vincenzo viene trascinata via anche lei tentativo di strangolamento orgasmo evidentemente precoce e battuta e ritirata prima che la povera Maria perde la vita fortunatamente quindi abbiamo un'altra scampata a questo non c'è l'escalation cioè no perché tutto era in funzione era in funzione a vengo prima o vengo dopo se vengo prima ti lascio andare perché il suo piacere era quello di finché ti tengo le mani al collo io provo piacere poi se tu muori peggio per te se non muori meglio per te io intanto devo raggiungere il orgasmo sì c'ho certo però mi fa sempre un po' strano pensare come lui non potesse pensare che che girassero voci su di lui ma secondo me non lo so sai perché tutte queste donne sono state zitte per tanto tempo per quattro anni ha imparato che tanto nessuno avrebbe denunciato le donne erano un po' così impuniti impuniti era impunito poi di fatto e si sentiva tale perché se no non si spiega il lasciare andare certo ma secondo me all'epoca giravano anche altri racconti di stupri o comunque di abusi verso le donne magari tra gli uomini stessi e nessuno li prendeva come se fossero stati erano molto più frequenti e certo eccetera quindi lui era anche forte di questa cosa quindi probabilmente non se ne parlava perché ci si vergognava non lo so mi sta venendo un'idea un po' del tipo magari invece lui dipendeva da se raggiungeva l'orgasmo o meno ma se fosse stata una strategia quella di lasciarne andare perché dicevano no ma lui li assale e basta non so se mi seguite però non credo è talmente impunito in effetti chi avrebbe mai potuto pensare che sia stato lui a fare quel macello visto che il suo modus per Andy era diverso anche se l'avessero preso per una aggressione che non finiva nel sangue lui poteva dire no ma io io era salto e badia sì sì in effetti c'era un po' di disorganizzazione però secondo me era proprio in funzione secondo me non era arrivato a fare la finezza del li frego no facendo una volta sì una volta la lascia una volta secondo me era questo io mi faccio un po' forte di questo pensiero purtroppo perché anche tramite la mia nonna o comunque altre persone anziane con cui ho parlato ho sentito delle storie raccapriccianti raccontate come se fossero nulla ma anche cose di passaggio sì esatto e non mi stupisce il pensiero che si pensasse che certe cose si possono fare se io prendo una per il collo poi chiaramente spingerti a uccidere è un altro conto però questi attacchi forse erano visti meno meno gravi rispetto a come li percepiamo oggi secondo me poi c'erano uomini che picchiavano le mogli a tutto spiano picchiavano i figli c'era proprio un clima di violenza di dobbiamo un po' immergerci in questa campagna del 1800 perché se l'analizziamo con la nostra mentalità di oggi ci sembra tutto assurdo allora adesso ho perso il filo siamo al 26 agosto del 71 ed è la prossima vittima la prossima vittima si chiama Maria Previtali Maria è la cugina di secondo grado di Vincenzo lei sta percorrendo da sola la strada di campagna che collega Bottanuco a Suisio e all'improvviso si vede raggiungere da un uomo che le corre proprio dietro una volta avvicinato lo riconosce è suo cugino di secondo grado Vincenzo lui però non riconosce lei io non so se il nostro Vincenzo probabilmente aveva un po' di prosopagnosia come me oppure semplicemente non se la ricordava proprio e attacca Bottone facendole qualche domanda quindi ma come ti chiami di dove sei e vede scorrendo in realtà sono domande di circostanza perché nel giro di qualche secondo la guanta per la vita la trascina nel campo adiacente tra l'altro c'è questa descrizione in cui la butta per terra in mezzo al grano con le gambe che invece ancora escono dalla strada mentre tutto il resto del corpo è sommerso da queste spighe e parte a strangolarla lei urla e di conseguenza lui le pressa una mano sulla bocca e con l'altra mano stringe fortissimo il collo come abbiamo visto lui non ha bisogno di toccarsi nel mentre fa questo gli basta strusciarsi quindi entrambe le mani o erano sulla faccia e sul collo o sul collo porta la ragazza la cugina quasi allo svenimento allo svenimento quasi a perdere i sensi ad un certo punto però lui molla la presa e si allontana e lo fa perché probabilmente deve andare a controllare se passa qualcuno forse aveva visto o sentito qualcosa e a questo punto la povera Maria che ha la possibilità di correre via più veloce che può non riesce a muoversi perché è sotto shock perché è traumatizzata e disorientata e praticamente cade in uno stato di freezing quindi non riesce letteralmente più a muovere un dito per il terrore per lo sconcerto resta lì dov'è e quando Verzeni torna indietro e la ritrova lì dove l'aveva lasciata non le fa più del male anche qui si siede davanti a lei le prende le mani e l'ascolta mentre lei lo supplica gli chiede in lacrime di lasciarla andare ad un certo punto lui sempre non dicendo una parola si alza e se ne va permettendo a Maria di tornare a casa viva e quindi anche lei si salva però ricordiamocela lei perché sarà importantissima per questo caso per la cattura di Vincenzo anche qua non sappiamo perché l'abbia lasciata andare forse è passato il momento di furore di fuoco e di eccitazione perché si era allontanato banalmente si era perso il suo organo capito aveva perso il momento e quindi non gli interessava più si no infatti le ipotesi che facevano prima erano un po' cioè funzionava così si si comandato dal suo probabilmente anche se avessero provato a cercare qualcuno potrebbe essere che non sarebbero riusciti perché non avrebbero collegato questi non sono omicidi però l'omicidio di quella ragazzina con le aggressioni però probabilmente lui si era seguiva un'altra logica ma lui lo dirà anche infatti ogni tanto torno a dire lo dirà poi ve lo racconto per bene però racconta proprio mi eccitavo quindi raggiungevo l'erezione e da lei non capivo più niente queste sono state le sue confezioni fondamentalmente ora al ridosso di questo episodio quindi subito il giorno seguente c'è un'altra ragazza che viene aggredita però senza avere la stessa fortuna di Maria e stiamo parlando di Elisabetta Pagnoncelli lei è una contadina di 28 anni e quella domenica dopo messa si sta dirigendo verso un podere di sua proprietà con un paio di ceste di pulcini da portare questi pulcini al podere questi pulcini effettivamente arrivano a destinazione perché verranno poi trovati lì Elisabetta invece no viene aggredita da Vincenzo sulla via di ritorno il marito che non la vede arrivare si allarma la cerca e la ritrova la ritrova in condizioni orribili perché anche lei ha questi segni di soffocamento sul collo che però non erano stati eseguiti con le mani perlomeno si pensa in un primo momento ma con una corda cioè proprio la famosa striscia no abbastanza geometrica intorno al collo anche dei graffi autoinflitti sulla gola perché mentre la stava strozzando forse lei si stava stava cercando di liberarsi no anche lei nuda squarciata come la povera Giovanna Motta anche lei con gli organi interni completamente esportati e il taglio degli organi genitali è piena di segni di morsi su tutta la superficie del corpo e questa volta anche lei aveva gli stessi spilloni che aveva in testa anche Giovanna però le erano stati piantati sulla schiena tre di questi spilloni altri erano stati invece sparpagliati in giro intorno a lei sempre seguendo una figura oppure stavolta a caso gli spilloni per terra erano completamente sparpagliati mentre invece quelli sulla schiena formavano un triangolo quindi uno sopra e due sotto non abbiamo non abbiamo risposte perché quando Vincenzo Verzani verrà interrogato sul perché questi spilloni fossero messi come erano messi e perché li avesse usati lui dirà non lo so quindi non lo sappiamo però dopo questo secondo omicidio molto simile a quello di Giovanna le indagini si fanno un po' più stringenti fino a questo momento possiamo dire che non c'erano state anzi e inizialmente c'è un sospettato principale quello di cui vi parlavo prima un corteggiatore un po' insistente di Elisabetta un certo Luigi però quest'uomo aveva un alibi di ferro e di conseguenza viene scagionato non è stato lui io non so a cosa si riferiscono con aveva un alibi di ferro perché all'epoca immagino che con gli orari non andassero proprio precisi precisi e sul capire quando è avvenuto l'omicidio o meno però crediamoci perché queste sono le fonti escono fuori anche due testimoni due donne che dicono di aver visto Vincenzo Verzeni insieme a Elisabetta l'ultima vittima in un campo escono fuori tutte dopo senza contare la più importante la coraggiosissima Maria Previtali la cugina di secondo grado che va proprio a denunciarlo fa nome e cognome di suo cugino Vincenzo Verzeni e racconta cosa aveva subito e dopo di lei a mano a mano escono fuori anche le testimonianze delle altre donne aggredite da Verzeni quindi prendono coraggio Maria coraggiosissima apre letteralmente la strada a tutte affinché trovino la forza per testimoniare e denunciare quindi Vincenzo Verzeni il 10 gennaio del 1973 viene arrestato e da lì a breve parte il processo però Verzeni si dice inizialmente innocente lui dice di non saperne nulla di non aver fatto mai nulla e peraltro facendo le mie varie ricerche ho trovato anche non li ho visti li guarderò magari in futuro però dei video in cui si sostiene che in realtà Vincenzo Verzeni fosse innocente non so sulla base di cosa dovrei vedere il video per dirlo se sia attendibile o meno però ora diciamo che era difficile ottenere delle prove di sicuro non c'era il DNA eccetera 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 lui confesse cioè tutto succede perché poi lui a un certo punto confesserà sì perché poi vedi come dicevamo prima di fatto chi è andato a denunciarlo è perché è viva esatto però non è se cioè probabilmente qualcuno l'aveva visto probabilmente c'erano anche delle voci che già giravano e ci hanno messo un po' di anni ma no anche a volte una volta che lui è in prigione se queste uccisioni smettono allora forse abbiamo quello giusto ed in effetti giusto giusto osservazione però però di fatto lui è stato denunciato per dell'aggressione tentato omicidio anche volendo perché ti prende al collo e ti soffoca sì lui poi confessa tutto comunque e in un primo momento si cerca di capire se appunto Vincenzo sia o meno sano di mente e questo compito viene affidato a Luigi Fornasini e a niente un po' di meno che a Cesare Lombroso sull'Ombroso dovremmo studiarcelo attentamente dovremmo fare un video di 4 ore che sarebbe molto interessante io propongo se vi interessa ditecelo comunque il soldone se ti interessa Sara poi sai che ti metteremo a lavorare su Franco una cosa perché altro altro spoiler su Sara non solo faremo la live mercoledì prossimo ma ci aiuterà anche in tutto ciò che sono vedrei insomma presentazioni video insomma supporto di questo tipo e poi ospite ho fatto la grade ok infatti non so se poi vuoi retrocedere vorrei mai retrocedere vabbè finché le va finché ve le fa piacere io sono contentissima sfruttatemi pure vi do il permesso rimane nel nel letter questa cosa adesso l'ho detta esatto come 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 dirà qualcun altro come dirà qualcun altro come lo sentiremo dire presto ormai l'hai detto stia tranquilla scusa Erika scusa no no torniamo tanto qui qui mi ricordo perché eravamo all'ombroso quindi non posso dimenticare e per sintetizzare tantissimo l'ombroso è definito il padre della criminologia moderna ed è stato colui che ha cercato di trovare un nesso tra la psicopatologia criminale e la la costituzione e la struttura fisica non è solo questo ho fatto milioni di altre cose è anche il fondatore dell'antropologia criminale un sostenitore della fisiognomica che come potrei definirla è la la deduzione che i caratteri psicologici passassero attraverso l'aspetto nello specifico la morfologia del volto del cranio e anche sostenitore di una sorta di determinismo genetico quindi fondamentalmente una sorta di criminologia atavica come lui definiva criminalità atavica perdonatemi nasci criminale insomma nasci criminale esattamente nasci potenzialmente criminale e probabilmente lo sarai anche nella vita sì ed è purtroppo questa cosa questa cosa del misurarsi la faccia e gli occhi quanto sono lontani vicini come ho la mascella è una roba che vedo fare ancora in altri ambiti che non lo so mi stranisce un po' però sì diciamo c'è questo processo quindi il processo sì no è che ci sono dei ragazzi che sostengono che se non hanno il viso in un certo modo nessuna ragazza le vorrà mai che devono avere la mascella lunga un tot e il naso lungo un tot e mi inquieta un po' mi inquieta un po' questa deriva che ha preso non lo so l'ideologia c'è una specie di maschera che puoi sovrapporre al tuo viso per capire se le proporzioni del tuo viso sono ideali o no non so se l'avete provato a fare no assolutamente no ma perché io lo so di avere un viso assolutamente irregolare c'ho due profili diversi io l'ho fatto così per ridere sono completamente svasata però ho detto vabbè con photoshop provo ad aggiustarmi ed è venuto fuori un alieno quindi non so quanto sia attendibile no ma poi riguardo a questo tipo di ideologia potrei fare dei nomi specifici non di persone ma proprio dei correnti però non voglio farle perché non è il caso e poi non voglio triggerare nessuno se no qualcuno magari potrebbe partire con i commenti sono community un po' totossichelle quindi lasciamo perdere comunque non ho proprio ma zero idea di quello di cui stai parlando se ne parlo fuori sede ne parlo fuori sede sì esatto mi perdo succede nel mondo succede che va a scatafascio sì semplicemente succede che siamo troppo connessi quindi entriamo cioè come dicevo prima da una parte ci attraiamo tra simili ma da tutti i punti di vista ecco quindi ok torniamo a noi torniamo a Verzeni sì sì dopo se ne parla allora il processo di Verzeni si svolge tra marzo e aprile del 73 Verzeni e Lombroso instaurano un rapporto molto positivo quindi Lombroso oltre che a studiare Verzeni a prendere le sue misure antropometri che frenologiche lo ispiziona scava nelle sue tare familiari però lo fa anche parlare lo tratta da essere umano lo ascolta mi torna in mente un po' carretta e quindi Vincenzo si apre con lui e gli racconta della sua vita della sua infanzia e tra una confidenza e l'altra ad un certo punto confesserà e cosa ci dice Verzeni ci dice ce l'ho qui davanti quindi vi leggo pari pari dagli atti processuari dell'epoca le sue parole io ho veramente ucciso quelle donne e tentato di strangolare quelle altre perché provavo in quell'atto un immenso piacere in quanto non appena mettevo loro le mani sul collo mi si il e ne sentivo un gran gusto un gran gusto naturalmente si riferisce al piacere sessuale la prima la prima riferendosi alla cugina 12enne non la strozzai del tutto perché il piacere lo gustai quasi subito appena toccato nel collo per la stessa ragione restarono salve le cinque altre assaltate invece le M e P restarono soffocate perché il piacere tardando a manifestarsi io le stringevo sempre più ed esse morirono io godevo anche a fiutare le sole vesti femminili il piacere che provavo nello stringere il collo alle donne era più intenso che non provi ora con la masturbazione né per questo rapporto io badavo se fossero vecchi o giovani o brutte purché fossero femmine mi bastava la motta la spaccai non con la falcetta ma con un rasoio con cui il giorno prima mi ero sbarbato provai nello spaccarla un gran piacere le graffiature che si trovano sulle cosce non erano prodotte con le unghie ma con i denti perché io dopo strozzata la morsi e ne succhiai il sangue che era salato con che godei moltissimo ed è da quei ragazzi che esce fuori la storia del vampiro perché lui si beveva il sangue oltre a cercare di morsicare le vittime sul collo sul corpo beveva il sangue esportai il polpaccio della motta dopo averlo succhiato per poter continuare a gustarlo a casa e arrostirmelo e arrostirmelo perciò me lo misi in tasca dentro il fazzoletto ma poi temendo che la madre me lo trovasse lo nascosi entro la paglia del tabiotto onde venire a riprendermelo le spadine ad aghi di capo disposti a cerchio sulle pietre le disposi io estraendole dal capo della morta il che mi dava pure un gran diletto quindi Sara dice semplicemente che si divertiva però non sappiamo esattamente cosa ci fosse dietro le vesti le viscere le esportai perché godevo nel fiutarle e nel palparle la forza che mi veniva abbastanza i brividi effettivamente la forza che mi veniva in quei momenti di immenso piacere era così grande che io sarei stato capace di sollevare una casa e nessuno avrebbe potuto resistermi anche la pagnoncelli io non la strozzai con la corda ma con le mani con la corda io non feci che strascicare su e giù il cadavere con gran piacere al confessor del mio paese io raccontai il primo caso egli me ne redarguì e proibì di ripetere altri tentativi io non raccontai più gli altri fatti al prete perché avrei temuto che lui denunciasse gli raccontai invece di furti d'erbe e frutte di cui molte volte mi resi colpevole non lo dissi alla madre ma questa finì per accorgersene dopo che osservò che ad ogni omicidio e tentativo la mia camicia era intrisa di sperma io non l'accennai all'assise né lo dissi all'avvocato difensore perché vedendo tutto il popolo così acceso contro di me credevo che lo avrei irritato ancora più contro di me sì che avrebbe finito per ammazzarmi l'ho detto ad un solo condetenuto e questi mi consigliò di tacere matto non lo sono ma quando era a casa mia tacevo sempre però in quei momenti dello strozzamento io non vedevo più niente perciò non capisco perché mettessi i tre aghi alla paglioncella nella schiena né io mi accorsi delle due donne che dissero di avermi intraveduto chino sopra la motta dopo eseguiti quei fatti io provavo una gran soddisfazione mi sentivo più bene non ho rimorsi fino a un certo punto e me lo disse il confessore delle carceri è però meglio che io sia in carcere e ci resti perché se io fossi fuori tanto era quel piacere che non potrei fare a meno di procurarmene e uccidere altre donne io non ho mai pensato a toccare o indagare le parti sessuali o analoghe ma solo mi limitavo a stringerle il collo e a succhiarne il sangue ignoro ancora come viene conformata la donna durante o dopo lo struzzamento però io mi stringevo attorno a tutto il corpo senza badare ad una più che ad un'altra loro parte però scusa forse ricordo male ma in due casi non aveva asportato le parti intime sì probabilmente lui si riferisce al non ho mai avuto rapporti sessuali lui non può ignorare gli interessavano come feticcio non come organo da usare propriamente o vabbè in questo caso impropriamente a lui non piacevano proprio gli organi femminili mi sembra che ci sia un'altra mi sembra di aver letto un'altra parte che lui dicesse proprio che non gli piacevano però gli piaceva non cercava la penetrazione però se li porta via che è strano sì in effetti sì in effetti sì infatti gli organi genitali sono le uniche parti che non sono mai state ritrovate non sappiamo dove le abbia messe non voglio sapere che fine hanno fatto forse le ha mangiate non lo so pensavo anch'io perché se il polpaccio lo voleva mangiare e infatti l'aveva morso l'aveva succhiato il sangue aveva preso questi pezzi di carne inizialmente mordendoli succhiandoli da crudi poi voleva cucinarseli quindi provava a venire partire ok e a questo punto l'ombroso che deve periziarlo fa il suo dovere e la perizia di l'ombroso nei confronti di Verzeni è che non fosse particolarmente preoccupato su lasciare tracce dietro di sé questo l'abbiamo visto nemmeno rispetto agli atti commessi lui per primo dice di non avere rimorsi ma dice anche che fosse stato molto abile nel mentire per quattro anni quindi nell'omettere un po' insomma un po' di astuzia gli attribuisce e quindi il suo risponso è che innanzitutto lui sia affetto da pellagra quindi gli attribuisce la pellagra il cretinismo poi la necrofilia il sadismo il vampirismo il cannibalismo e che però nonostante la morbosità di questa sua condotta avesse delle anomalie craniche che lui rileva tramite le sue misurazioni ereditarie che lo portassero ad avere anche un vizio parziale di mente lo sappiamo l'ombroso ragionava un po' così no? ti misurava a questo punto però c'è l'altro perito anche lui è molto famoso peraltro Luigi Fornasini che non concorda con la conclusione di l'ombroso fermo restando che però l'ombroso è stato centrale perché è stato colui che l'ha portato a confessare perché se non ci fosse stato l'ombroso Verzeni probabilmente non si sarebbe mai sbottonato così tanto Fornasini dice che e anche qua vi leggo perché ce l'ho un uomo che abbia commesso tutti i delitti dei quali ha imputato il giovine Verzeni nel modo e nelle forme note potrà dirsi nel linguaggio volgare un pazzo noi però lo denunciamo a rigore di termine come un delinquente chi è dotato di ragione arbitrio e tuttavia si arrende alle suggestioni malvagie ha sempre la responsabilità morale e legale delle sue opere l'indole o l'inclinazione naturale attenua sì ma non esclude la colpa che è un po' quello che se ci pensate si dibatte ancora durante i processi fondamentalmente sì è vero ma non è facile arrivare a una risposta no? Quindi cosa succede? Ci sono queste due perizie contrastanti i giudici le esaminano e alla corte di assise di Bergamo viene giudicato sano di mente e quindi decidono di votare per una fucilazione questa fucilazione Vincenzo la scampa perché un solo voto contrario lo salva di conseguenza sì Silvia volevi dire qualcosa no no ho paura di interrompere no no è un voto solo contrario sì un voto contrario che evidentemente aveva dato più credito all'ombroso forse questo è un criminale nato e non ci si può fare nulla di conseguenza Verzeni viene condannato all'ergastolo e ai lavori forzati lavori forzati a vita c'è da anche specificare che l'ombroso continua a parlare con Verzeni prima di della sua incarcerazione anche dopo perché è proprio Verzeni a volerlo incontrare a volergli raccontare altri dettagli e riconosce che l'ombroso gli vuole bene e quindi probabilmente si vuole sfogare l'ha proprio preso come figura affettiva però Verzeni non sta moltissimo in carcere a questi lavori forzati perché viene spostato nel manicomio criminale di Milano e questa è una parentesi molto buia per Vincenzo perché i metodi utilizzati all'epoca per guarire non tra due virgolette ma fra cento virgolette i pazienti erano niente di meno che delle torture e torno a chiedere a chi ci ascolta se volete che facciamo un po' non lo so qualche episodio sui manicomi i metodi sarebbe interessante un po' un'incursione nelle metodologie psichiatriche che poi insomma erano per torture una carrellata diciamo ovviamente del secolo scorso però anche i giorni nostri mi sa che ci sono ancora delle problematiche si può ancora raccontare parecchio sì infatti potremmo fare un ieri e un oggi visto che capitano ancora storie abbastanza agghiaccianti sì nell'oggi diciamo c'è anche non essendoci più i manicomi tutto quello che prima era dentro i manicomi non è finito solo negli ospedali psichiatrici ma magari anche in comunità esatto esatto non so cosa stai pensando sto pensando alla stessa cosa sì che ne avevamo già pensato un po' di tempo fa di fare delle puntate su quest a me piacerebbe molto piacerebbe molto si farà tanto c'è tempo per tutto stiamo sfornando troppi idee in questo periodo è vero è vero proprio a ridosso dell'operazione ne voglio fare mille ora no vabbè sono progetti futuri che si stanno è tempo di semina io sto seminando in casa sto facendo per ora stavo a germogli nel nello scottex chiusi e nei ma cos'è che fai se volete posso fare delle storie su instagram solo perché su crime out mi sembra un po' pensavo che parlassi metaforicamente invece tu stai proprio seminando ah ok sto facendo esperimenti di semine no non penso cioè non di quello magari cioè magari nel senso no ma troppo quest'anno no signor maresciallo non è quello che pensa eh ma sai la piantina ci sono dei a marzo la pianti ma no per una pianta non ti possono dire nulla poi cioè se è una pianta e fa poca roba oddio sai che c'era una mia amica a cui avevano regalato una pianta di canapa ma non quel tipo di canapa lì però e le avevano dato anche un libretto le avevano detto di tenerlo perché se mai fosse arrivato a un controllo in casa lei doveva mostrarlo alle forze dell'ordine per dimostrare che non era quella il passaporto della pianta esatto sì ed era solo una quindi non è che fosse un neanche tipo un balcone pieno era solo una pianta sì ma qua i vicini sbirano per molto meno assicuro quindi non è che non credo di rischiare niente per una pianta però se ti vogliono rompere le scatole già me le romperebbero per la presenza e per l'imprevisto quindi anche no però se fosse legale comunque piacerebbe anche a me la puntata su gli ex ma i comi sì ci sta ci sta anche secondo me poi proprio un argomento che mi mi interessa già da ragazzina ricordo che guardavo video e comunque documentari su queste cose bene sì dove eravamo rimaste che Verzenio era andato appunto al manicomio criminal al manicomio giusto e sì viene sottoposto a delle torture perché lui viene gettato in questi stanzini bui in completo isolamento per dei giorni interi viene elettrificato viene legato a delle sedie e poi immerso in delle vasche alternando oggetti d'acqua gelata oggetti d'acqua bollente viene incatenato quindi siccome queste tecniche sadiche a tutto potevano servire tranne che a curare o comunque a far stare meglio chiunque Vincenzo si deprime va in dissociazione pesante smette quasi di parlare di reagire finché un bel giorno non implode in se stesso ha una esplosione di rabbia e morde un infermiere nelle parti intime staccandogli un testicolo tra tutte le crudeltà che fa Verzeni questa è l'unica a cui posso dire guarda ci sta ci sta Vincenzo stavolta c'è un po' di solidarietà stavolta c'è un po' sì qui il cannibalismo lo approvo e però naturalmente lo fa in un contesto che non gliela dice bene perché dopo aver fatto questo gesto lo sbattono in usulamento per 40 giorni e siamo praticamente quasi alla fine di questo viaggio perché proprio in conclusione c'è un mistero che poi è stato svelato a quanto pare però dopo questo mese e mezzo di isolamento pare che il 23 luglio del 1874 Verzeni sia definitivamente devastato psicologicamente fisicamente in tutti i sensi quindi una sera intorno alle 22 lui dà la buonanotte ai suoi compagni di cella e poi viene ritrovato alle 4 del mattino impiccato alla grata della finestra della sua cella nudo con solo i calzini e le ciabatte non è ancora morto sta respirando però dopo poco cospira forse perché forse perché stando alle prime fonti dopo il decesso di Vincenzo c'è l'ombroso che effettua l'autopsia sul suo cadavere no? e ne va proprio ci sono i suoi documenti va a ricercarne la fossetta occipitale che a quella zona era quella zona per lui in cui risiedevano delle anomalie che peraltro non trova però la storia non finisce così perché successivamente dopo il 2000 addirittura ci saranno due produttori televisivi Mirko Cocco e Michele Pinna che nel mentre stanno raccogliendo del materiale perché vogliono girare un documentario proprio sul vampiro della Bergamasca scoprono che Verzene quella notte è stato in realtà probabilmente salvato e che dopo questo gesto lo avessero trasferito nel carcere di Civitavecchia dove poi lui avrebbe finito di scontare la sua pena perché perché sì era stato messo all'ergastolo però c'era stato il nuovo ordinamento nel frattempo e quindi l'ergastolo era stato tradotto in 30 anni 28 anni di reclusione quindi poi rilasciato e tornato a vivere a Bottanuco e come fanno a scoprire questa cosa lo scoprono perché loro si recano a Bottanuco per fare questo documentario e trovano l'atto di morte di Vincenzo Verzeni che però ne certifica il decesso peraltro per cause naturali alle ore 15.35 del 31 dicembre del 1918 quindi qualche annetto dopo cosa fanno questi due vanno negli archivi del giornale dell'eco di Bergamo e trovano un articolo del mercoledì 3-4 dicembre 1902 che recita queste parole anche queste ce l'ho quindi ve le leggo per l'uscita di Verzeni dall'ergastolo da Bergamo si scrivono le seguenti notizie ad un giornale di Milano notizie che da assunte informazioni ci risultano vere la popolazione di Bottanuco è terrorizzata al pensiero che Vincenzo Verzeni lo squartatore di donne ha quasi ormai finita l'espiazione della pena che dal gastolo fu convertita in 30 anni di reclusione il lugubre ricordo delle gesta sanguinose del Verzeni è ancora vivo in Bottanuco e nei paesi circostanti e quindi qua si conclude il nostro racconto ma come dicevamo se Verzeni è tornato dopo la condanna a Bottanuco ed è morto nel 1918 perlomeno sappiamo che non ha più colpito perché non ci sono stati altri omicidi o aggressioni a suo ma quanti anni aveva quando è uscito mi sono persa con le date per capire se magari è plausibile che fosse venuta meno la libido e quindi si sia risorto il problema per quello allora stando alla prima diciamo fonte lui è morto nel 74 impiccato viene arrestato nel 73 facciamo 30 anni in totale di sconto di pena siamo tre discolicaliche per caso io scusate io vi roberta dovrebbe dovrebbe essere stato dovrebbe essere stato rilasciato 30 anni dopo già nel 1800 poi 93 94 dovrebbe essere stato liberato e quindi no cosa sto dicendo nel 1903 o nel 1900 no sapete che non mi tornano allora lui era nato nel aspetta abbiamo detto che era nato nel nel 48 nel 48 e poi quest'ultimo articolo che hai letto parlava del 18 si morto nel 18 stando al certificato di morte ritrovato 69 anni secondo questa versione cioè di morte naturale 69 anni ma se calcoliamo che è stato incarcerato nel 1873 73 incarcerato ok e si fa e si fa i suoi 30 anni di carcere si esce dovrebbe essere uscito nel nel 1903 si in teoria e poi si e ci sta 1903 infatti nel 1902 c'è questa questo articolo no che dice sta per uscire quindi nel 902 torna si e poi dal 903 al 918 lui vive a bottanuco ok te l'abbiamo fatta bene bene quindi in teoria quando è uscito dovrebbe aver avuto 55 anni se non ho scritto male i numeri sulla calcolatrice che boh in effetti si è un po' era comunque giovane forse non è questo il motivo perché pensavo magari diciamo che ne aveva anche un po' si ne aveva passate parecchie ma riceveva anche tipo tra mille virgolette farmaci mentre era recluso perché magari può essere che gli abbiano dato anche qualcosa che non ne ho idea non c'è scritto da nessuna parte perché una possibile risposta al fatto che poi lui è uscito e non ci sono state altre aggressioni potrebbe essere quella perché se la spinta era sessuale e però ti manca proprio la spinta si risolve da sé ci sta o forse semplicemente secondo me gli davano di tutto secondo me gli succedeva di tutto quindi probabile anche che che gli dessero roba però non c'è stato tanto nel manicomio non c'è stato tanto è stato più in carcere poi si è andato a vedere non sappiamo se quando è uscito è andato dalla sua famiglia quindi magari aveva qualche sorella qualcuno che lo controllava poi appunto se questi documentaristi parlavano della paura oramai cioè se usciva la paura certamente anche la gente stava molto più attenta rispetto a prima questo è vero probabilmente anche la sua famiglia lo controllava di più può essere la chiave in stanza in casa eh sì abbiamo finito ragazzi per stasera abbiamo fatto un po' prima del solito però beh questa è crudissima Ed Kemper è questa è stata heavy questa sì ma io so che a Erika piacciono e quindi eh sì sì beh però è stata cioè non allora mentre la raccontavi pian piano mi sono resa conto che avevo letto qualcosina effettivamente però era passato un po' sotto il radar per cui molte cose non le sapevo eh sì ma lui è famoso è famoso perché è stato uno dei primi serial ad essere stato studiato diciamo a livello scientifico no dall'ombroso riconosciuto poi non era ovviamente il primo serial killer non esisteva neanche la parola serial killer all'epoca di quei fatti quindi però però i serial killer come li definiamo noi adesso sono sempre esistiti e già esistevano questo è diciamo il primo caso italiano di cui si abbia conoscenza è il più antico serial killer italiano o quantomeno serial killer per come lo definirevano documentato esatto documentato documentato perché l'ombroso propriamente detto perché credo l'italia era nata proprio come stato si doveva essere fermato in quel periodo lì quindi a rigor di logica era veramente forse il primo italiano sì documentato sì beh ce ne erano voglia ce ne sono sempre stati però per fortuna sono anche aumentati i sistemi di controllo che no come dicevamo l'altra volta non sono diminuiti serial killer in potenza però vengono presi dopo il primo massimo dopo due omicidi sì ora è complicato è molto più difficile farla franca no? poi c'è anche un'altra cultura perché anche in questo caso se fosse stato denunciato subito alla prima aggressione alla ragazzina malata a casa sua sì esatto infatti fa un po' rabbia sì come tutte come tante storie che raccontiamo questo metterà la testa sotto la sabbia possiamo giustificarlo quanto vogliamo erano altri tempi però abbiamo visto che succede anche adesso sì quando si ignorano i disagi ma si ignorano i disagi ma perché sei poi anche tu e chi li crei tra traumi fin da fin da piccolissimi non so se conoscete Gino Girolimoni perché spesso c'erano delle scene diciamo questa storia che mi ricordavano altre scene di quest'altra storia che è leggermente più mutarda perché diciamo è venuta sotto il ventennio quindi qualche decennio dopo e anche lì c'è questo aggressore che si accanisce in modo molto violento sulle bambine sulle ragazzine sì in modo non troppo dissimile magari non così gore effettivamente però anche Girolimoni segniamolo perché lo faremo segniamoli segniamo tutto il filone il filone storico straziante al massimo e poi è stato anche quello praticamente memizzato l'antesignano del meme cioè era un meme io mi ricordo che un un ragazzo del di dove abitavo io aveva dava così per gioco questo biglietto da visita falso che era Gino Limoni qualcosa del genere non so se quella qualifica pediatra cioè una roba veramente di uno humor che io poi non capivo cioè la cosa assurda insomma è che questo poi ha so che ha molestato era un po' molesto con le minorenni quindi era una specie di warning che stava dando a suo modo sì 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 vabbè abbiamo finito ok siamo un po' scioccate davvero no ma no dai ormai abbiamo fatto camper questo questo è vero però devo dire la verità che mi ha un po' turbato di più questa che camper forse perché camper la conoscevo già quindi ero preparata insomma psicologicamente ma io sto sentendo non so se c'è una cosa una cosa un po' da autistica da dire ma c'è un orologio che ti chetta da qualche parte sì anche io lo sto sentendo da inizio puntata no 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 era perché stavo continuando a chiedermelo io me lo sto chiedendo anche io da inizio puntata aspettate lo tolgo subito aspettate momenti autistici è vero perché io sono abituata a sentirlo quindi non ci faccio più caso però dovevo ricordare no è impossibile ho tolto la batteria non può più essere allora forse il rumore di sottofondo si si io ho provato a mutare adesso si lo sento ancora allora non è il mio orologio è qualcosa di audio audio forse si si no l'orologio però prima lo sentivo non così adesso è una roba continua prima era proprio il ticchettio di un orologio si si ma allora era quello no scusate avevo pensato di toglierlo e poi mi sono dimenticata perché perché va bene io non lo sento più ecco questo è si ok adesso non si senti più è perché Sara si è tolto l'audio quindi qualcosa legato all'audio va bene questo è il nostro ippopotamo di stasera no perché poi prima di della sigla perché la sigla alla fine la dobbiamo sempre mettere Sara quanto è bella questa sigla ma è bellissima mannaggia a voi che mi rimane sempre in testa vero sì è contenta è stata diabolica sì perché se resta in testa a me deve restare in testa a tutti a tutti giusto dobbiamo condividere questo questa questo stimming mentale ok ho provato a fare qualcosa con quel programma che dicevi ma i miei risultati sono veramente penosi probabilmente non so scrivere i prompt ma quello di della musica sì sì sai che avevi detto andate create ci ho provato ma veramente è uno schifo ma probabilmente perché non riesco a spiegare bene al programma che cosa voglio ma quando vabbè poi ne parliamo dai ok se non si davvero diventa il nostro salotto vabbè allora se vi piace la modalità salotto sotto i commenti di questo video su youtube potete commentare quindi andate anche a vedere i video su youtube e iscrivetevi e su youtube potete commentare sotto i video quindi se un video vi è piaciuto cioè se una puntata vi è piaciuta e volete dire qualcosa o se non vi è piaciuta e volete dircelo andatelo a scrivere sotto youtube magari non vedete il video subito diciamo in contemporanea all'uscita come podcast lo vedrete qualche giorno dopo però se se volete lasciarci qualche commento lo potete fare lì sotto i video yes sono real quindi terminiamo con la sigla e mi raccomando mercoledì faremo uscire presto il il link condivisibile per dove c'è l'anteprima attivate la campanella ma in questa live siamo molto eccitate contenti di farla e quindi vi vogliamo numerosi sì e io ne approfitto per ringraziare ancora Sara perché ha fatto un lavoro meraviglioso quindi grazie a voi di avermi coinvolto sono io quella grata quindi una gratitudine reciproca allora reciproca esatto sì sì bene grazie a tutti voi che avete ascoltato fino a questo momento e state connessi perché adesso arriva il video non il video ma la sigla finale sono sono alla frutta quindi grazie Erika grazie Sara e ci vediamo prestissimo ciao a tutti alla prossima quando la sera tu puoi e fai cose tutte e tu che vuoi ti rilassi con racconti neri e quando ti tocca pulire la tua casa al tuo atto parlante di scelte di coltelli cry em out cry em out tu puoi ascoltare Silvia e te dai in almoniak a parlare di movente perizie cry em out cry em out siamo la famiglia di cry em out siamo la famiglia di cry em out